Benvenuti in un nuovo video, cliccate di iscrivervi, lasciate like e condividere Allora, oggi abbiamo questa immagine Sì, anche te la trovate, è un loop Così vedete, è meglio così Allora Questo è un portafoglio Allora, aspetta che lo apri Allora bambini, quindi ho preso il portafoglio Questo è all'interno, non si capisce unifico Allora Allora, questo qui è un portafoglio Con l'occhio Ma stai facendo il flash? No, ragazze, bambini Ora guarderemo da più vicino questa cosa Ora così spegniamo il flash Ciao, ciao bambini